Quattro revolver, quattro calibro 9, una 7.65 e munizioni a volontà. Un piccolo arsenale pronto per ogni venienza, quello trovato dagli agenti al momento del blitz di Giardinello nella villa che ospitava l'ultimo summit del capo mafia di San Lorenzo. Questa è la villa dove Sandro e Salvatore Lopiccovano trascorso la latitanza prima che la polizia li catturasse. Ci sono anche un rilevatore di micro spie e il sacchetto che conteneva i pizzini che Lopiccovano aveva tentato di fare sparire utilizzando i servizi igienici, prima che un colpo esploso dai poliziotti gli facesse capire che ormai la sua latitanza dorata era finita. Nella casa dove il boss è stato arrestato ci sono ancora segnali evidenti della passione per il lusso dei Lopiccolo, spumante, sigari cubani, Jack Daniels, Chivas e persino un calciobalilla. Uno stile di vita a niluce da quello di Bernardo Provenzano, tutto ricotta e cicoria. E mentre continuano i sopralluoghi nella zona tra Prattinico e Giardinello per individuare la casa dove Lopiccolo avrebbe alloggiato prima di passare la notte nella villa intestata all'allevatore Filippo Piffero, dai confesercenti parte un appello agli iscritti trovati nel libro mastro di Lopiccolo affinché collaborino con la giustizia. Pena l'espulsione dall'associazione.